Grazie a tutti. In tutti questi incontri a nome del governo italiano abbiamo trasmesso due messaggi, il pieno sostegno per la lotta di liberazione da Daesh a Sirte, dove i feriti venivano curati in Italia, i feriti della battaglia. Abbiamo deciso di offrire un ospedale qui per evitare che i feriti ogni volta venissero portati in Italia, ma avessero un'assistenza immediata qui. Sul secondo punto dell'emergenza immigrazione la cooperazione deve intensificarsi tra Italia e Libia, così come noi lavoriamo molto sui paesi di origine e di transito dell'immigrazione. Perché sappiamo che la Libia molto spesso è l'ultimo passaggio di un lungo viaggio.